Weeeh! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi sfide della settimana numero 4 di Fortnite Ce n'è una in particolare che ovviamente stiamo cercando trovare la lettera T della parola Fortnite Dove si trova la lettera? Semplicissimo, basta andare a moli molesti Come ci mostra la schermata di caricamento in alto a destra in penombra c'è proprio la lettera T E la posizione esatta si trova proprio sulla piattaforma in mezzo a queste due gru Per la precisione esattamente in questo triangolo Quindi ragazzi molto semplicemente arrivate a questa sfida in modo che ve la sblocchi Atterrate qua e recupererete la lettera T Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Un bel pollicione in su, iscrivetevi ai canali Noi ci vediamo sempre in live su Twitch Weeeh ragazzi di Twitch, va che non me ne sto andando Ciao!